Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità all'interno. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Tu sei mia, sei verità, tu sei la nostra, mia. Tu sei mia, 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 sei la nostra, mia. Alleluia, alleluia. Tu sei mia, sei la nostra, mia. Tu sei mia, sei la nostra, mia. Tu sei mia, sei la nostra, mia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie a tutti.